Sport e ambiente. Luisp dedica corri per il verde della mattinata di domenica 29 novembre al Parco del Pineto di Roma alla mobilitazione per il clima, in programma nel pomeriggio in via dei fori imperiali. Il clima è di tutti, anche il nostro, partecipa anche tu. La Coalizione Italiana per il Clima, di cui Luisp parte, ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla lotta ai cambiamenti climatici in vista della Trattativa di Parigi. Luisp invita tutto il movimento sportivo e tutti i cittadini ad essere presenti a questa mobilitazione, perché lo sport sostenibile riduce l'impronta ecologica ed educa a una nuova cultura ambientale. Grazie per la visione!